Da quando pronunciò quelle parole a Raiuno Filippo Dispenza, commissario prefettizio della Comune di Vittoria, sul tema non ha più parlato, rifiutando ogni invito a farlo tramite microfoni e telecamere. Si è affidato invece al Tribunale, presentando querela per diffamazione contro Francesco Aiello, per le dichiarazioni rilasciate anche in una nota scritta data alla stampa su quelle accuse di Dispenza da egli definite false. Facciamo allora un passo indietro e riascoltiamo cosa disse Dispenza nel passaggio cruciale così contestato. Ci sono 74 spazi, 74 cosiddetti box, mai assegnati legittimamente in oltre 40 anni e anche rinnovi sono stati fatti mai con un'evidenza pubblica. Quindi dobbiamo immaginare, mi perdoni se la interrompo, l'assegnazione dei box, quindi l'assegnazione del potere economico locale, veniva fatta secondo le famiglie, secondo la spartizione mafiosa del territorio? Esattamente. Tra l'altro una cosa gravissima che rileva la relazione della Commissione d'Accesso, non venivano neanche effettuati i controlli agli ingressi del mercato. Aiello ora è accusato di diffamazione per aver definito false quelle parole. Come interpretare questa comunicazione di garanzia? Io continuo per la mia strada con l'equilibrio. Certo, il dolore è forte perché mi rievocano queste cose passaggi anche vissuti da me, da giovanotto, da quasi adolescente, a 20 anni, 19 anni, il primo processo derivante da un articolo del Codice Rocco per vilipendio, in quel momento con processo fatto a Siracusa, poi l'appello a Catania. Questo non è più il Codice Rocco ma è ex Codice Rocco perché quando mi si accusa, mi si dà l'avviso di garanzia su un reato che è l'ostraggio a corpo politico, uno rimane e ci commenta, dove stiamo andando, che cos'è che sta accadendo? Oppure la diffamazione? Io esibisco atti, documenti, il bando, li ho portati anche alla valutazione e alla conoscenza e lo farò a Roma, alla Commissione parlamentare antimafia di Roma, atti, documenti, relazioni, due valigie di documenti, ne posso portare altre quattro valigie di documenti. Il risultato di tutto questo, qual è però il risultato? Il risultato che è il negazionismo che sempre nella città di Vittoria ha fatto Capolino, addirittura c'erano capi mafia che facevano rilasciare un'intervista, la mafia non esiste e su questa linea della mafia non esiste, per tanto tempo si è andata avanti, la doppia attività non esiste, la doppia fatturazione esiste, ma vediamo come nascondere questa doppia fatturazione e mettere tutti nello stesso calderone, un'intera città, rafforza praticamente i gruppi veramente criminali.